Grazie a tutti Grazie a tutti Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV ben ritrovati a Rossini News il nostro telegiornale delle Canale 80 l'ultimo notiziario di questa settimana ma anche il primo del mese di aprile primo giorno questo venerdì 1 aprile che apre la fase di allentamento delle misure contenitive delle Covid-19 tra le novità che vi abbiamo anticipato anche nei giorni scorsi il fatto che il Green Pass non sarà più necessario per diverse attività come parrucchiere, estetiste, uffici pubblici, banche, poste, negozi, alberghi e mezzi pubblici e poi ancora al lavoro l'obbligo vaccinale resterà per i sanitari fino al 31 dicembre e per i docenti fino al 15 giugno mentre per gli over 50 Novax si potrà lavorare ma presentando il tampone negativo delle Green Pass base intanto le marche arrivano ad aprile con una incidenza di 1025 casi settimanali ogni 100.000 abitanti un dato che si è costantemente abbassato per tutta la settimana che si conclude oggi per quello che riguarda i ricoveri le terapie intensive contano attualmente 13 pazienti per un 5% di occupazione complessiva Basta pericoli, basta criminalità nel cosiddetto triangolo dello spaccio fra parco Miralfiore, stazione e monumento alla resistenza e questa la richiesta urlata a gran voce da Fratelli d'Italia che ha manifestato ieri al sottopassaggio pedonale dei Cappuccini alla presenza tra gli altri anche della donna che proprio in quel luogo è stata rapinata domenica scorsa Dopo due rapine in 10 giorni al sottopassaggio pedonale dei Cappuccini il coordinamento pesarese di Fratelli d'Italia torna a manifestare sul luogo del misfatto per riaccendere i riflettori su quel cosiddetto triangolo dello spaccio fra parco Miralfiore, stazione e monumento alla resistenza in cui le problematiche di criminalità e sicurezza non riescono a trovare deterrenti adeguati al fianco dei manifestanti anche la donna che domenica si è vista strappare dal collo un ciondolo d'oro da una banda di ragazzini nordafricani Mi sono spaventata, mi sono spaventata molto non mi era mai capitata una cosa del genere ma poi sono stati rapidissimi a parte il valore dell'oggetto vabbè pazienza ma è stata la violenza che mi ha dato fastidio che mi ha infastidito Episodi che inevitabilmente segnano e che portano anche a cambiare comportamenti e abitudini Faccio un'altra strada se devo andare alla stazione prendo la macchina e così per chiamare un taxi è a posto Ci ritroviamo un'altra volta qui ci ritroviamo con le stesse persone speravamo che prima o poi questa situazione venisse risolta chiaramente capiamo la difficoltà di affrontare questi problemi quindi sempre massimo sostegno comunque sia alle forze dell'ordine all'impegno che ci mettono sappiamo la carenza cronica di personale però si deve necessariamente trovare una soluzione condivisa tra forze dell'ordine amministrazione locale affinché questo posto torni ad essere un posto vivibile non è possibile che le persone abbiano paura di passare in questo sottopasso di recarsi alla stazione o di mandare i propri figli a prendere il treno o l'autobus come pendolare quindi è ora veramente di finirla e di trovare un sistema che possa riportare questo pezzo della città bellissimo che è un ingresso della città che possa essere veramente riportato alla gestione e al controllo da parte delle forze dell'ordine a favore di tutti i cittadini ci piacerebbe che venissero risolti i problemi di questa zona che ormai è noto a tutti come triangolo delinquenziale perché sappiamo Parco della Resistenza, Stazione, Parco Miralfiore e avvengono continuamente atti delinquenziali ma grado l'impegno delle forze dell'ordine ci terrei a sottolinearlo perché spesso fanno delle retate cercano di tenere la zona sotto controllo però a mio avviso ci vorrebbe una volontà politica diversa tutte le promesse fatte da sindaco e da assessore competente di mettere in sicurezza la zona sia anche con delle opere che la rendano più fruibile e quindi più frequentata mi sembra che siano state in attese fino adesso perciò noi protestiamo anche contro questo fatto qui Ed ora ci occupiamo di scuola con diverse iniziative che riguardano alcuni istituti superiori della città di Pesaro la prima unisce liceo Marconi e Banco Alimentare con una maxi raccolta di cibo in favore sia della popolazione ucraina che sta arrivando nel nostro territorio sia anche delle altre persone bisognose e raccolta alimentare che nei giorni scorsi ha visto protagonisti proprio gli studenti del liceo pesarese I numeri sono importanti perché in una scuola come il liceo Marconi che vede 1900 studenti 150 ragazzi sono stati volontari hanno coinvolto 72 classi hanno coinvolto tutti i docenti in tutti i luoghi della scuola per raccogliere alimenti per la popolazione ucraina e per i bisognosi del nostro territorio quindi abbiamo oggi raccolto 1200 kg di alimenti da destinare a queste persone quest'anno per la prima volta in una scuola superiore si è attivata questa iniziativa vorremmo riproporla anche nel 2023 speriamo che i ragazzi siano con noi ma dalle prime avvisaglie direi che sono loro i primi a chiedercelo effettivamente è stata veramente una grande occasione che a noi ha insegnato molto e quindi sicuramente continueremo in questa traiettoria c'è parlare ai più giovani perché stiamo sentendo che loro hanno proprio bisogno di sentire che c'è un modo di contribuire alla società che parte dal basso parte da gesti semplici come recuperare a scuola qualcosa da donare a chi ne ha bisogno e quindi noi siamo veramente molto contenti ed è nella direzione di condividere il bisogno condividere il bisogno condividere le informazioni e fa scoprire che c'è un mondo di solidarietà nelle Marche sono 260 enti un sacco di volontari che tutti i giorni operano per esempio i dati del Banco Alimentare sono che l'incidenza di queste opere va a colpire 43.000 persone non è stato di bisogno solo nella regione Marche quindi c'è tanto bisogno tanto da fare ma la bellezza è vedere che c'è tanta gente che vuole contribuire E da lì ciao Marconi passiamo al vicino di casa all'istituto Bramante Genga che da questa domenica inaugura un ricco programma di eventi culturali aperti a tutta la cittadinanza La scuola superiore pesarese Bramante Genga si apre alla città con La cultura apre tutte le porte un programma di eventi culturali indirizzati alla cittadinanza e non soltanto alla popolazione scolastica il progetto curato dalla professoressa Tiziana Fuligna intende restituire alla scuola il ruolo di centro vivo della vita sociale come luogo di incontri e scambio dunque via di una serie di esposizioni installazioni e un ciclo di conferenze che comincerà domenica 3 aprile con il recital maternale Irene e Jezabel una lettura scenica su testi di Irene Nemirovski Siamo qui a presentare un progetto che avrà cadenza pluriennale e che si basa sul concetto di cittadinanza attiva e consapevole come partecipazione alla vita del territorio come alleanza educativa con il territorio quindi il binomio scuola-città che diventa un binomio imprescindibile nella nostra azione educativa nella nostra voglia nel nostro desiderio di promozione culturale attraverso i talenti attraverso le competenze le professionalità e anche in fondo le storie dei nostri docenti che si mettono a disposizione della collettività mostrando quello che sanno fare quindi ci saranno una serie di iniziative mostre d'arte letture sceniche, conferenze che sono tutte sostenute dalle competenze interne della scuola questo perché ogni istituto scolastico in fondo promuove cultura non lo può fare soltanto all'interno delle aule scolastiche ma è giusto che lo faccia anche nei confronti di tutta la cittadinanza e poi vediamo chi vorrà partecipare è ben accetto e sarà ben accolto Terza scuola superiore coinvolta in iniziative nel cuore della città in questi giorni è il liceo artistico Mengaroni che domani 2 aprile farà da capofila alla sensibilizzazione nella giornata mondiale dell'autismo come ci ricorda questo video realizzato dallo stesso liceo Autismo, linguaggi, visioni, orizzonti è l'evento patrocinato dal Comune e organizzato dal Mengaroni che domani sarà seguito anche dalle telecamere di Rossini TV dentro e fuori l'istituto scolastico per l'occasione Piazzetta della Creatività in fondo a corso 11 settembre diventerà domattina la location delle performance artistiche degli studenti pesaresi Pesero, capitale della cultura è pronta a organizzare il concerto per la pace protagonista sarà l'orchestra Olimpia che il prossimo 27 aprile ospiterà in un concerto il direttore della filarmonica di Kharkiv consegnandogli di fatto un'orchestra che gli è stata tolta dal terribile conflitto bellico in corso Il concerto per la pace è dedicato all'Ucraina al conflitto in corso e vede la presenza di Yuri Janko che è il direttore e l'amministratore della filarmonica di Kharkiv l'orchestra Olimpia ha raccolto un appello di un network internazionale di artisti che era a lui dedicato poiché fuggendo da Kharkiv ha perso la casa il lavoro e la sua orchestra e per questo motivo lo accogliamo qui a Pesero e gli diamo un'orchestra e l'appello consisteva proprio nel aiutare concretamente i musicisti dandogli quello che è il loro lavoro dandogli la possibilità di continuare ad andare avanti questa è anche un'occasione per mettere insieme le studentesse russe e ucraine del conservatorio di Pesero che si uniranno all'orchestra Olimpia e con questo piccolo gesto noi vogliamo in qualche modo riconoscere la loro professionalità e lanciare un segno appunto di unione e per la pace tutto questo ovviamente sotto la direzione di un grande maestro che per la prima volta tra l'altro viene a Pesero quindi questo è un ulteriore motivo di orgoglio per noi l'appuntamento ripetiamo è il 27 aprile alle 21 al teatro sperimentale l'ingresso sarà devoluto sotto forma di aiuti umanitari e sotto forma di borse di studio dedicate alle studentesse del conservatorio di Pesero che in questo momento si trovano in difficoltà economica studentesse ucraine quindi è importante partecipare per dare il nostro contributo attraverso la musica per un sollievo materiale e reale Tavuglia e Monte Calvo in Foglia chiedono ad ANAS di realizzare una circonvallazione tra i centri abitati di Rio Salso e Borgo Massano le due frazioni sono infatti attraversate dalla strada statale gestita da ANAS che è caratterizzata da un intenso traffico di mezzi pesanti diretto verso le aree industriali della zona inoltre a breve è anche previsto un ampliamento produttivo con conseguente aumento dei volumi di traffico le sindache Paolucci e Paganelli ritengono necessario realizzare una circonvallazione per portare il traffico pesante fuori dai centri abitati e mettendo in sicurezza la viabilità nonché ridurre l'impatto in termini di inquinamento ambientale e acustico ed ora cambiamo argomento e parliamo di alcuni spettacoli teatrali a cominciare dalla piccola ribalta che domenica 3 aprile alle 17 porta nel teatro pesaresi di Via dell'Acquedotto il debutto dell'opera di Maurizio della Michelina secondo classificato al premio drammaturgico Antonio Conti del 2019 lo spettacolo dal titolo Fritz und Thea Aufidersen di Mauri Inchen che ne curerà la regia insieme a Michela Barone e dopo il debutto al teatro grande di Pompei e la partecipazione al festival di Avignone l'affermata autrice e regista siciliana Emma Dante indiscussa protagonista del teatro italiano di questi ultimi anni approderà al teatro della fortuna di Fano giovedì 7 aprile con Pupo di Zucchero la festa dei morti ovvero la sua ultima creazione liberamente tratta da Locunto degli Cunti di Gian Battista Basile lo spettacolo che è uno dei più importanti dell'attuale scena teatrale internazionale giunge in prima ed esclusiva regionale proprio a Fano nelle cartellone delle programma di Teatro Oltre ed ora vediamo qualche indicazione per quello che riguarda i mercati cittadini a Pesero in questo mese di aprile il mercato straordinario che solitamente si svolge la domenica prima di Pasqua verrà infatti anticipato a questa domenica 3 aprile nell'area del San Decenzio per fare posto a quello in programma domenica 10 aprile quando gli ambulanti riempiranno Piazzale Carducci e Via La Marca per il mercato mensile della stradomenica nel giorno di Pasquetta lunedì 18 aprile si terrà invece il mercatino dell'antiquariato fra Piazza del Popolo e via Limitrofe verranno comunque mantenuti tutti i consueti mercati cittadini del martedì ed ora passiamo allo sport perché siamo davvero a poche ore da un sabato di grandi partite domani alle 18 c'è infatti Vital Service in diretta su Rossini TV contro l'Olympus Roma un'ora dopo sarà sabato di campionato anche per la VL in casa di Tortona così come domani sera ci sarà la festa salvezza della Megabox a Urbino contro la Acqua e Sapone Roma vediamo tutto in questo servizio sarà un sabato di grande sport per le squadre della nostra provincia impegnate nella massima serie di pallavolo basket e calcio a 5 è proprio quest'ultimo a dare il via alle danze alle 18 con la diretta su Rossini TV dell'Ital Service impegnata in trasferta in casa dell'Olympus Roma remake a 6 giorni di distanza del match di salso maggiore che ha consegnato la Coppa Italia ai pesaresi proprio a scapito dei capitolini conquistata la Coppa l'Ital Service capoclassifica va ora a caccia del terzo scudetto consecutivo alle 19 invece scende in campo in anticipo anche la Carpegna prosciutto Pesaro chiamata a Tortona nel difficile impegno con la Bertram che Coach Banchi ha così presentato nella conferenza stampa di oggi per quanto ci riguarda è stata un'altra settimana un po' complessa nella sua preparazione così come lo è stato l'approccio alla gara contro Brescia è un periodo nel quale non riusciamo ad allenarci con continuità abbiamo un gruppo di giocatori un po' ridotto perdura l'assenza di Camarà ci sono stati piccoli acciacchi che hanno tenuto soprattutto a inizio settimana qualche giocatore fuori dall'allenamento e questo ci impedisce di arrivare a un numero legale per poterci allenare come vorremmo era successo prima della gara contro Brescia è successo stavolta però dobbiamo assolutamente trovare delle risorse per prepararci bene a questa parte conclusiva di stagione dobbiamo prepararci a una gara molto impegnativa una squadra solida lo ha già dimostrato in tante circostanze lo ha dimostrato qui nella gara di andata come detto è una è una neopromossa per modo di dire una squadra che ha confermato sul campo la propria ambizione in qualche modo questa gara arriva sulla scia di quella di Brescia e quindi due squadre che stanno attraversando un periodo analogo quindi sono da considerare a tutti gli effetti due delle più belle realtà di questa stagione a completare il sabato alle 20.30 al Pala Carneroli di Urbino scende in campo la Megabox Vallefoglia a tre giorni dalla splendida aritmetica salvezza ottenuta mercoledì a Roma proprio le capitoline dell'Acqua e Sapone saranno di nuovo avversare a Urbino a caccia dei punti per la permanenza in Serie A quella massima serie che sarà ancora realtà per il 2022 2023 per la società del presidente Angeli finalmente è arrivato questo momento l'abbiamo sognato dal primo giorno in cui abbiamo fatto la 1 ricordo a tutti che tre anni fa facevamo la B1 e che quindi è stato un percorso per pazzi sognatori e siamo stati premiati nonostante quest'anno sia successo di tutto delle robe che non sono dipese dalla volontà di alcuno ma che hanno avuto una casualità comunque tragica dal sabato alla domenica torna in campo la Vispesero che alle 14.30 se la vedrà al Benelli con i Toscani del Montevarchi Vis chiamata a far punti per sedare l'emorragia di tre sconfitte consecutive e rimettersi in corsa per il rush finale playoff nelle quattro finali che restano domenica casalinga anche per la Pesaro a rugby che affronterà Noceto al Toti Patrignani Ancora sport e in particolare motori perché siamo anche nel weekend del primo appuntamento del campionato italiano velocità categoria Moto3 che si svolge presso il circuito di Misano Adriatico protagonista in discussa della prima giornata è stata la pioggia che ha tenuto compagnia ai piloti in tutti i turni delle prove libere per i piloti del nuovo team MR Racing di cui Rossini TV è sponsor tecnico e che vi abbiamo mostrato anche nei giorni scorsi attraverso servizi e uno speciale è partita la stagione di Matteo Morri e Giampaolo di Vittori che hanno avuto l'occasione per togliersi un po' di ruggine invernale e riprendere confidenza con la pista e con la nuova moto per il team è stata un'importante giornata di raccolta di informazioni per poter settare al meglio la moto anche in vista di un probabile weekend di gare bagnate sia Matteo sia Giampaolo si sono detti soddisfatti delle buone sensazioni che hanno provato alla guida e sono fiduciosi per gli appuntamenti con le prime gare e con Sport e Motori si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dall'informazione del Vallefoglia Magazine che vi terrà compagnia subito il dopo il TG per chi ci segue nella prima edizione telegiornale di questo territorio condotto da Edoardo Razzi che va in onda alle 20 come ogni venerdì e con prima replica alle 23 e 15 la nostra prima serata invece alle 21 e 20 sarà dedicata alla conferenza sul turismo al teatro Raffaello Sanzio di Urbino si parlerà appunto di sviluppo turistico in questa importante occasione di confronto fra comune regione e confcommercio e poi vi ricordiamo anche l'appuntamento fisso con la rassegna stampa del sabato buongiorno Rossini che domani in diretta alle 7 e 20 sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi altra diretta è quella con lo sport di domani sabato 2 aprile alle 18 partita dell'Ital Service che vi trasmetteremo come sempre per quello che riguarda i match della squadra pesarese in trasferta la partita in questione sarà Olympus Roma Ital Service Pesaro remake della ultima finale di Coppa Italia appuntamento dunque domani alle 18 altra diretta è quella con le sante messe della domenica mattina come sempre le nostre telecamere si accenderanno alle 11 e un quarto questa volta dalla parrocchia di San Pietro in Calibano a Villa Fastigi e dunque tanti appuntamenti che vi terranno compagnia questo weekend su Rossini TV si conclude qui invece questa nostra edizione del telegiornale ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana in compagnia dei programmi di Rossini TV e un buon fine di Rossini TV